I dati del Tribunale di Teramo destano grande preoccupazione per il futuro della giustizia nella provincia. I numeri da record che in Abruzzo fa registrare il Tribunale di Teramo, dove solo per citarne alcuni esempi emersi dalla recente relazione del Presidente della Corte d'Appello, pendono ancora i due terzi dell'arretrato dell'intero distretto, con il maggior tasso di turnover di magistrati in uscita, maggior numero di procedimenti iscritti da più di 10 anni e i tempi per definire una causa civile superano i mille giorni contro i 296 di Chieti e i 368 di Pescara, mentre sul Mona, Vasto, Lanciano e L'Aquila oscillano tra i 400 e i 600 giorni. Una condizione che ha spinto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo a deliberare lo stato di agitazione, non escludendo di programmare anche giornate di estensione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. È una situazione che si è accumulata da molti anni e che sta creando questo effetto vizioso, anziché un effetto virtuoso, per il quale c'è una grande mobilità in uscita dei magistrati, considerate le criticità del nostro Tribunale. Ogni magistrato a Teramo ha un carico di lavoro superiore del 17% rispetto a quello degli altri magistrati del distretto. Stessa cosa, anzi anche peggiore per quanto riguarda il personale amministrativo, con i dati riferiti al 2020, ogni impiegato a Teramo ha un carico di lavoro superiore del 24% rispetto a quello degli altri tribunali del distretto. Questo crea un effetto valanga, un effetto accumulazione che è destinato ad aggravarsi imminente nel brevissimo e medio termine il trasferimento di quattro magistrati a Teramo, che verranno coperti non si sa quando, in entrata se ne annuncia soltanto uno. E questo però noi stiamo lanciando un allarme, ma a difesa non tanto e non solo del lavoro degli operatori, ma quanto del nostro territorio, perché con questi dati la provincia di Teramo sicuramente non riuscirà ad agganciare gli obiettivi del PNRR, noi sappiamo che quello della giustizia è un obiettivo principale per quanto riguarda il PNRR. Ora è vero che questi dati verranno raccolti, il raggiungimento di questi obiettivi fissati al 2026 verranno valutati su base nazionale, ma certo quelli della nostra provincia resteranno, la nostra provincia sarà un territorio sempre meno attraente per gli investitori esteri e quindi se non si pone rimedio a questa tendenza temo che la nostra provincia resterà fra quelle economicamente più emarginate della nostra regione e della nostra nazione, purtroppo.